oggi nonostante la giornata sia molto nevicosa nel senso che nevica non fa per niente freddo si sta benissimo si può quasi viaggiare maniche corte però sicuro è una bellissima giornata di neve con tanta neve il paesaggio è bellissimo da tutte le parti da qualsiasi parte si noti le strade appunto sono percorribili non faccio la via boschiva perché allungherei per arrivare al campeggio quindi faccio una sorta di scorciatoia prendendo da questa parte per recarmi nella zona dove io solitamente vado a campeggiare dove ho la mia roulotte eccetera ok ok